buongiorno a tutti ragazzi benvenuti al vostro oracolo angelico giornaliero anche oggi abbiamo il nostro mazzo di tarocchi delle sirene e vediamo un po quale sarà l'energia del giorno vi ricordo ragazzi che se volete imparare a leggere i tarocchi con il mio metodo con il metodo maya o psico evolutivo che è specifico per l'analisi delle relazioni quindi relazioni di coppia relazioni d'amicizia relazioni anche professionali di qualunque tipo inviate una mail e la mia assistente angela vi dirà vi darà le istruzioni per iscrivervi ai miei corsi che in realtà sono dei video corsi quindi praticamente una volta iscritti potete guardare le lezioni con la velocità che voi desiderate e tutte le volte che volete quindi il corso rimane vostro per sempre in alternativa potete direttamente iscrivervi dal sito internet e per avere una sessione privata con me stessa cosa email o sito internet dal quale potete direttamente prenotare scegliendo il giorno e l'ora che preferite ma andiamo a prendere le nostre tre carte di oggi vediamo quali lame scelgono di uscire che cosa le nostre carte scelgono di mostrarci per questa giornata e infine come sempre vedremo prenderemo un oracolo angelico io non so perché ma oggi le carte non vogliono uscire quindi praticamente ne è uscita solo una ne è uscita sono tentata di leggervi solo questa facciamo una cosa giriamola e vediamo cosa dice il re di spade io vi leggerei solo questa perché vuole uscire solo questa perché però vorrei aggiungere qualche dettaglio in più ma intanto parliamo del re di spade visto che appunto è voluto uscire ragazzi a ecco qui c'è un'altra perfetto il re di spade che sia un uomo o una donna che possiamo essere noi o qualcuno attorno a noi nella nostra vita è qualcuno che o ha delle idee che ci riguardano oppure qualcuno che ha da dire qualcosa e la dice in un modo molto astuto in un modo molto intelligente perché il re di spade non solo sa usare bene le parole ma sa usare anche bene i pensieri ma intanto l'altra carta non vuole uscire prendiamola così ok sei di bastoni quindi dicevo il re di spade qualcuno che sa esattamente come usare le parole perché usa bene sia la testa che la bocca è un ottimo mix quindi magari siamo noi particolarmente intelligenti oggi magari siamo noi particolarmente loquaci magari abbiamo l'occasione per dire qualcosa oppure in alternativa pensiamo a come dire qualcosa nel modo giusto a una determinata persona quindi insomma essendo un oracolo giornaliero che vale per tutti questa energia può funzionare direttamente su di noi oppure riflessa a specchio quindi può riguardare qualcuno che interagisce con noi quindi o noi siamo particolarmente intelligenti e loquaci o qualcuno lo è con noi la carta successiva è quella dell'eremita che invece è il contrario è esattamente il contrario perché l'eremita invece è qualcuno che non ha voglia di parlare non ha voglia di comunicare l'eremita è una persona altrettanto intelligente altrettanto acuta mentalmente che volendo se volesse potrebbe parlare con un re di spade in una maniera perfettamente alla pari quindi ecco che la saggezza dell'eremita la saggezza del saggio dello studioso di colui che vive la sua vita studiando se stesso di colui che conosce la realtà dell'animo umano l'eremita a volte rappresenta infatti un un saggio un dottore un terapeuta può rappresentare vediamo saggi dottori terapeuti sì in particolare terapeuti perché nell'antichità in realtà la figura dell'eremita era una figura vera e propria non so se voi ne siete a conoscenza ma nell'antichità le famiglie nobiliari le famiglie ricche quelle che possedevano terreni quelle che governavano sui loro tra virgolette sudditi perché si trattava proprio di sudditanze quindi non solo i re ma anche i nobili avevano degli remiti che vivevano proprio dentro i loro poderi che vivevano all'interno delle loro proprietà e questi remiti avevano una capannina oppure vivevano in una grotta all'interno di queste enormi proprietà e avevano vitto e alloggio nel senso che appunto rimanevano nella loro capannino nella loro grotta ogni giorno qualcuno gli procurava da mangiare e poi il proprietario quindi il nobile di turno il governatore di turno quando aveva dei dubbi si rivolgeva all'eremita per chiedere consigli ovviamente l'eremita è quindi una figura esistita è una reale figura che rappresenta l'uomo saggio che vive da solo in mezzo al nulla in mezzo alla natura ma che viene che viene diciamo contattato o cercato solo nel momento in cui si sente la necessità di chiedere aiuto di chiedere una mano quindi che cosa possono significare queste due carte queste due carte il re di spade più l'eremita possono avere a mio avviso due differenti significati il primo è che un re di spade consapevole di avere bisogno di consigli contatta un'eremita contatta un esperto in qualcosa contatta qualcuno che rappresenta uno studioso in una determinata materia su un determinato argomento certo potrebbe essere un professionista è chiaro ma potrebbe anche essere un amico un parente molto saggio un punto di riferimento nella nostra vita che noi sappiamo magari che conosce bene determinati argomenti e quindi ci possiamo rivolgere a lui o qualcuno può rivolgerci a noi vedendoci come l'eremita considerandoci come un'eremita in alternativa queste due carte possono rappresentare una persona che desidera comunicare e l'altra che non si sente pronta a comunicare e che prima della comunicazione ha bisogno di chiudersi in se stessa e pensare nell'ambito delle relazioni per esempio di coppia supponiamo anche se questo può essere valido per qualunque situazione uno dei due può essere un re di spade che vuole comunicare perché è pronto a dire delle cose perché si sente ormai preparato nel suo discorso e l'altro invece si sente come l'eremita o preferisce agire come l'eremita magari evitando il discorso evitando l'argomento cercando di rimanere un po in solitudine prima di affrontare una conversazione però ritornando al valore al significato generale che queste due carte possono avere se si tratta di qualcuno che chiede aiuto ad un'altra persona più esperta ecco che questo sicuramente porta ad un grande risultato perché porta ad un 6 di bastoni quindi porta ad avere le nozioni necessarie per andare avanti con successo questa comunicazione o questo consiglio ci fa o fa sentire l'altro sicuro ci fa sentire sicuri di noi stessi ci fa sentire abbastanza abbastanza forti e capaci di andare avanti ed ecco che ci provoca un movimento in noi o nell'altro ovviamente perché con i 6 di bastoni c'è questo movimento in avanti e c'è questo andare verso la vittoria ma vediamo qual è più in particolare il consiglio che gli angeli ci danno in questa giornata sono scappate fuori due carte noi le prendiamo entrambe perché si vedeva che volevano uscire e a quanto pare abbiamo una ruota con l'arcangelo michele e l'imperatrice con l'arcangelo gabriele non solo ma se non sbaglio ho appena inserito nel secondo livello nel video corso di secondo livello ho appena inserito una lezione nuova che insegna come a volte i numeri delle carte si possono sommare per trovare dei significati ulteriori rispetto a quelli che le singole carte ci danno faccio un esempio pratico proprio in questo momento in modo tale che i miei studenti di secondo livello magari ripassino un po questa lezione nuova e invece gli studenti di primo livello possono portarsi un po avanti con il lavoro se noi abbiamo una ruota della fortuna che è un numero 10 più un'imperatrice che è un numero 3 noi dobbiamo guardare il significato della ruota della fortuna singolarmente il significato dell'imperatrice singolarmente e infine aggiungere un terzo significato che è il 10 più il 3 cioè il 13 che sarebbe la carta della morte la carta della morte e del cambiamento quindi cosa possiamo dire con queste tre due carte che diventano tre possiamo dire che questo è un momento sicuramente con la ruota della fortuna molto significativo quindi questa è una giornata molto significativa se non è a proprio oggi saranno comunque i giorni attorno ad oggi questa è una giornata nella quale un cambiamento significativo e positivo inizia per noi una situazione può avere degli sviluppi anche improvvisi e la fortuna è dalla nostra parte la carta dell'imperatrice ci dice che questo porta grande abbondanza che questo ci può permettere di dare vita ai nostri sogni che ci può permettere di arricchire noi stessi e gli altri se sommiamo le due lame e prendiamo in considerazione il valore del numero 13 quindi della carta della morte ecco che da tutto questo nasce un cambiamento talmente tanto grande che ci dà un valore di morte e rinascita inoltre nella giornata di oggi noi che cosa abbiamo abbiamo già un arcano maggiore qui nella stesa di base più due arcani maggiori come consiglio angelico che arcani maggiori come dico già dal primo livello parlano di momenti ed eventi molto significativi per noi parlano di fasi importanti parlano di lezioni da imparare lezioni che la nostra anima si trova ad apprendere quindi o la giornata di oggi o i giorni attorno ad oggi ripeto saranno molto significativi e importanti andate sul nostro sito a guardare il programma dei nostri corsi per imparare leggerità rocchio per imparare la magia evolutiva inviate una mail se desiderate appunto più informazioni o comunque se volete sessioni private potete prenotarle sia dal sito sia tramite email per il resto ragazzi ci vediamo domani